La Procura di Roma vorrebbe procedere nei confronti di Roberto Calderoli, esponente di spicco della Lega Nord, dopo la denuncia di Fabrizio Biolè del Movimento 5 Stelle sull'utilizzo di un volo di Stato per scopi personali. Sarà però la giunta delle immunità parlamentari del Senato a decidere. I fatti risalgono ad un anno fa, quando Calderoli, compagno della Presidente Gancia, fu filmato da Biolè alle Valdigi, su un velivolo dell'aeronautica militare, contrassegnato Repubblica Italiana. Dato che in quei giorni non ci furono visite istituzionali di rappresentanti del governo Cuneo, Biolè volle andare a fondo. Pochi giorni prima, il figlio della sua compagna, la Presidente della provincia di Cuneo, era rimasto ferito in un grave incidente stradale. La replica dell'entourage di Calderoli arrivò subito. Il rappresentante del governo era Bergamo, dissero. Aveva raggiunto Cuneo in macchina e poi preso il volo dalle Valdigi, anziché da Milano, per una seduta della Commissione per il Federalismo Fiscale a Roma. Pronta anche la risposta di Biolè, che visitò il sito del Consiglio dei Ministri, non trovando traccia della seduta. Il costo del volo, dice il grillino, è stato di diverse migliaia di euro, anche perché l'aereo è da 140 posti, senza considerare il dispiegamento di forze dell'ordine. La spesa complessiva per i voli di Stato, affermato ancora Biolè nel 2009, è stata di 28 milioni di euro. Nel 2010, 10 in più, 38.